segni di rappresentare il popolo italiano. Saranno i deputati a decidere se questo modello di riforma costituzionale merita i 316 voti necessari per arrivare al passaggio finale? Sarete voi, signori del Parlamento, a decidere se andare o no al referendum, come mi pare che sia stato deciso e come sarà comprovato dalla raccolta delle firme? Saranno i cittadini italiani a decidere se finalmente l'Italia vuole entrare nel futuro anche istituzionale. Quello che io voglio dirvi con umiltà e rispetto è che finalmente, dopo molti anni, la classe politica dà una lezione di serietà e di civiltà. L'avete fatto voi. Nessuno ci avrebbe scommesso in quell'aprile del 2013. Io, a nome del Governo, non posso che darvene atto. Ringrazio il Presidente del Consiglio. Allora, colleghi, in seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta, quindi sospendo la seduta che, come è noto, riprenderà al termine della riunione della conferenza dei Presidenti di gruppo. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.